È successo qualcosa che voi avete voluto denunciare nella scorsa edizione della festa nazionale dell'unità di Imola. Una cosa che è abbastanza clamorosa, insomma. Che cosa è successo? Sì, intanto dopo aver scoperto a San Lazzaro che il Partito Democratico ha evaso la Tari per un importo che si aggira intorno ai 113 mila euro per un servizio di gestione di rifiuti per le loro feste di partito, abbiamo scoperto un caso simile anche ad Imola. Parliamo infatti di una fattura che si aggira intorno ai 25 mila euro per il servizio sanitario, in questo caso, dicevi bene, della festa nazionale che si è svolta a luglio 2017 a Imola, ancora non pagata. C'è anche una curiosità, perché nonostante la festa sia svolta a luglio, la fattura è stata emessa ben quattro mesi dopo, quindi il 31 gennaio 2018, e dopo otto mesi il PD non ha ancora pagato. La procedura, secondo quanto ci dice la Regione, prevede un sollecito entro i primi sei mesi, sollecito che non è ancora stato fatto, dopodiché arriverà un ulteriore sollecito, fatto sta che il PD può tranquillamente pagare dopo due anni dall'essersi avvalso di quel determinato servizio. Parliamo di più di 700 ore di lavoro svolte da dirigenti medici, da personale infermieristico e da autisti soccorritori, quindi crediamo che sia un fatto vergognoso.